Rafforzare il sistema delle procure antimafia, rafforzare il sistema di sicurezza del carcere, adottare tutte le iniziative necessarie per rendere la città libera da mafia e infiltrazioni criminali, va in questa direzione l'ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali Stefania Pezzopane, Simona Giannangelo, Enrico Verini e Stefano Albano. L'arrivo di Matteo Messina Denaro, le inchieste sulla mafia dei Pascoli, sequestre ai Casalesi, gli episodi di infiltrazioni nei processi di ricostruzione, le risorse legate alla ricostruzione e al PNRR, tutti i fatti che devono far riflettere e imporre anche al Consiglio cittadino di tracciare una linea. Chiediamo che l'Aquila si rafforzi nelle sue barriere antimafia e anti-infiltrazioni criminali. La cronaca di questi giorni purtroppo ci regala notizie non belle, non solo l'arrivo di Messina Denaro nel carcere dell'Aquila, uomo che per 30 anni è riuscito a scamparla da tutte le forze dell'ordine e le procure, ma anche altre notizie riguardanti la mafia dei Pascoli o riguardanti anche altre inchieste come quella di Gratteri che ha visto un detenuto del carcere interessato a un sistema potente di indrangheta e quindi l'ordine del giorno invita lo stesso Consiglio Comunale a dichiararsi antimafia e libero dalle infiltrazioni, ma soprattutto impone e propone delle iniziative significative sia di carattere culturale ma anche legate all'organizzazione della pubblica amministrazione, perché la mafia non è più solo quella che uccide, adesso è una mafia infida che si infila nei meccanismi decisionali, che si infila negli appalti, nelle procedure e qui di appalti e procedure se ne fanno tanti, grazie ai fondi della ricostruzione e del PNRR.